Buonasera, sono Giuseppe Ottimo, censuriamo in genere i dati personali, molto molto personali La mia azienda si occupa di vendita materiali per edilizia Siamo una realtà familiare e quest'anno festeggiamo i 50 anni di attività Salute! La maggior parte delle imprese italiane sono familiari e poi che durino così tanto è molto pregevole Abbiamo un sito da quasi 5 anni ma non ha mai dato nessun risultato Beh, siamo in linea Sì Avevo già sentito in qualche vostro podcast dell'utilità del mettere le proprie foto sul sito ma qui in famiglia nessuno lo vuole fare Non c'è un modo facile per fare senza Mia nipote qualche giorno fa mi ha parlato di intelligenza artificiale, cosa ne pensate? Io devo fare una puntata sui pericoli dell'intelligenza artificiale Devo farla Devo farla perché la gente non ha Il problema fiducia se usi l'intelligenza artificiale si moltiplica Peggiora Peggiora all'infinito perché Ok, quindi stai cercando di fottermi e questo è il messaggio che dai alle persone Nel senso Sei finto Sei finto Un libro di un autore che gli piace Ha letto il primo libro Ha letto il secondo C'è un errore di stampa Credo Qualcosa del genere C'è un capitolo L'ho ripetuto due volte Identico Ma com'è incazzato Mi dice Voglio i soldi Devi farti dare i soldi indietro Ci hanno preso in giro O non è che Li hanno tolto un capitolo Li hanno dato uno o due volte Cioè Non ci ha perso niente Però è così che funziona La mente umana Tu hai fatto una cosa Che mi fa pensare Che tu abbia voluto Prendermi in giro Io sono incazzato Come una belva Quindi nel momento Che tu mi tiri fuori Un'intelligenza artificiale Magari un volto Di un'intelligenza artificiale Che parla E si vede Ragazzi Si vede E io cosa penserò di te Che tu sei pronto A fregarmi Sei prontissimo A fregarmi Però Però Giuseppe In realtà il modo c'è Ed è anche facile C'è un modo Facile Per fare senza il volto È facilissimo Solo che ci vogliono Tantissimi soldi Paga qualcuno Di importante Di famoso Esatto Prendi un volto famoso Oppure fai come Sta facendo adesso Temo Investi qualche decina Di milioni di euro Al mese Qualche decina Di milioni Di euro al mese In pubblicità E allora Puoi crescere Senza metterci la faccia Perché Non ci sono aziende Che sono cresciute Senza faccia Che tu adesso Stavi pensando Ma La Fiat Ce l'ha una faccia Ce l'ha Adesso C'è una storia Detta un po' Più complicata Ma ce l'ha La Apple Ce l'ha una faccia Tu direi La Coca Cola Non ce l'ha una faccia Ok spendi i soldi Alla Coca Cola In pubblicità Perché se anche vai Per più di cent'anni Per più di cent'anni Perché se vai Su cose Molto più Concrete Diffuse Pensa ai tortellini A Giovanni Rana Pensa a Come si chiama Il pasticcere Massari Gino Massari Cioè pensa anche solo Alla Nike Lo dice tranquillamente Senza Senza Jordan Non eravamo Così importanti E Michael Jordan Nel Guinness Dei primati Ha fatto milioni di partite Il miglior giocatore Della storia Ha guadagnato Nella sua vita Più come sponsor Della Nike Che come giocatore Di uno degli sport Più pagati al mondo Per dire Quanto la Nike Gli ha dato Per mettere Quel volto Allora sì Si può fare Però devi avere Molto tempo E molti soldi Però è facilissimo Se hai tempo E soldi È facilissimo Mi dispiace Giuseppe La realtà è che Non ci sono scorciatoie Già tu vendi Materiali per l'edilizia Immagina Che un tuo cliente Facciamo che vendi Che ne so Vendi cemento E un cliente Viene da te Ti dice Ma Io posso riuscire A costruirmi Comunque la casa Invece del cemento Vorrei usare La gomma piuma Che mi costa meno E se c'è un modo Non c'è qualcosa Di più leggero Magari Che costa meno Sì no Materiali più leggeri Ci sono Costano 10 volte tanto Costano 10 volte tanto Esatto C'è la copertina È corta ragazzi Una piccola e media impresa Per poter crescere Il volto dei titolari È un driver Di crescita Assoluta Non lo vuoi usare Lo stai facendo Volontariamente Se tu stai Volontariamente Tarpando le aree La crescita Della tua impresa Non è nessuno Qual lo fa Questo è il motivo Per cui l'azienda Non è cresciuta È sul discorso Di tuo nipote Giuseppe Falli vedere Questo webinar E falli vedere La puntata Che uscirà del salto Perché tuo nipote Probabilmente giovane È come tanti giovani Adesso sta vedendo Nella intelligenza artificiale La possibilità Di fare qualunque cosa Con poca fatica E non è così È molto più complesso L'argomento Però poi ne parlerà Il salto In una puntata Pericoloso forte Molto pericoloso Grazie per averci iscritto Giuseppe